Prenderà il via in Cassazione il 14 giugno prossimo il processo Capaci Bis che vede imputati Salvatore Madonia, Vittorio Tutino, Giorgio Pizzo, Cosimo Lonigro e Lorenzo Timirello per la strage del 23 maggio 1992. Tutti sono stati condannati all'ergastolo dalla Corte d'Assise d'Appello di Caltanissetta, ad eccezione di Vittorio Tutino assolto in primo grado così come in appello per non avere commesso il fatto. La procura generale di Caltanissetta ha impugnato la sentenza solo per la posizione di Tutino mentre gli avvocati del collegio difensivo per gli altri quattro. Secondo i magistrati nisseni, gli imputati avrebbero svolto un ruolo fondamentale sia nella fase organizzativa dell'attentato sia nel reperimento dell'esplosivo piazzato sull'autostrada dove vennero assassinati il giudice Giovanni Falcone, la moglie Francesca Morvillo e tre agenti della scorta.